Giustizia per il grande campione. Davide Rebellin, la sua tragica morte, finisce in tribunale. Oggi a Vicenza si è aperto il processo a carico di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino travolse e uccise il fuoriclasse veneto del ciclismo. La prima udienza è breve, dura poco più di mezz'ora. I legali del camionista rinnovano l'istanza di patteggiamento dopo che in udienza preliminare l'accordo sulla pena era stato respinto. Noi abbiamo rinnovato l'istanza di patteggiamento, riteniamo che la pena di 3 anni e 11 mesi di detenzione omiciliare sia una pena proporzionata, anzi afflittiva per il fatto. Una vita umana non è mai proporzionata a nulla perché è evidente. Certo è che si tratta di una grave disattenzione ma una disattenzione, la persona era la guida, guidava 25 km all'ora, non ha visto l'impatto con il ciclista che stava passando. Credo che il signor Rieke che si è costituito, è venuto perché bisogna ricordare che quando ha saputo del male è stato sottoposto a un procedimento penale e si è presentato al Brenno. È in carcere da 7 mesi, abbiamo risarcito tempestivamente, anche qui 840.000 euro, 20.000 euro, non compensano una vita umana, questo siamo d'accordo, però ci siamo andati a fare anche con l'aiuto della famiglia in modo che la famiglia possa avere un ristoro di fronte a questa tragedia. Il patteggiamento a 3 anni e 11 mesi trova d'accordo anche il pubblico ministero, l'accusa dal suo assenso. La difesa ha anche chiesto la conversione della pena con la detenzione domiciliare. La famiglia di Davide Rebellin sarebbe comunque soddisfatta di quello che è stato il corso della giustizia fino ad oggi. La famiglia è senza altro, come abbiamo sempre detto, soddisfatta per quello che è stato fatto. Si pensava all'inizio che il camionista se ne fosse andato in Germania e da lì non lo succederebbe più visto, invece la procura ha fatto un lavoro ottimo, ha ottenuto la consegna in Italia, è stato portato in carcere, lì è rimasto, quindi è stato fatto un lavoro ottimo. Il camionista tedesco oggi ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, ha detto di essere molto, molto dispiaciuto per quanto accaduto e ha chiesto scusa alla famiglia di Davide Rebellin. Adesso non resta che attendere quale sarà la decisione del Tribunale che l'11 marzo dovrà esprimersi non solo sul patteggiamento ma anche sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in un appartamento del Trevigiano. Abbiamo richiesto anche nel frattempo che i giudici decideranno una revoca, o meglio una sostituzione della misura cautelare attualmente in atto, che è quella della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari. Noi ovviamente come difensori delle persone offese non possiamo che rimanere in attesa, prendere atto e vedremo quello che succederà nella prossima udienza dell'11 marzo dove appunto verrà deciso se è stata accettata o meno questa richiesta di patteggiamento.